70 anni di carriera come interprete dell'autentica tradizione musicale napoletana ed attrice brillante di cinema e di teatro. Miranda Martino ha ricevuto per i 90 anni la medaglia della città dal sindaco Gaetano Manfredi. È un riconoscimento per il grande contributo che l'artista ha offerto alla città, valorizzando con la sua voce l'immenso patrimonio musicale di Napoli. Ha un significato straordinario perché manco da Napoli, non mi ricordo da quanto tempo, e poi Napoli è quello che ha cominciato con Taranto. Quando facevamo la famosa piedigrotta, Taranto è stato un grande, era innamorato di me e io avrei avuto anche un flirt con lui. Miranda Martino ha debuttato nel 1955 vincendo il concorso Voci Nuove per Sanremo ed è stata un'artista di talento anche come interprete di riviste musicali e di operette. Come cantante ha partecipato cinque volte al Festival di Napoli e al Festival di Sanremo tra il 59 e il 61, collaborando con grandissimi autori, tra cui Ennio Morricone. Proprio a Morricone si devono la direzione e gli arrangiamenti delle canzoni classiche napoletane da lei interpretate negli anni 60 e ristampate in occasione del suo novantesimo compleanno. È un riconoscimento dovuto per una grandissima artista che ha rappresentato e rappresenta un pezzo della storia musicale della città. Noi stiamo valorizzando tutta questa storia che è una storia che è fatta di tradizione, di talento, di identità. Quindi è un'occasione molto importante, un riconoscimento molto significativo. Noi siamo molto grati per il contributo che è stato dato a Napoli e alla canzone napoletana in tutti questi anni. Quindi è un momento di grande soddisfazione da parte nostra.